A me non è che piaccia tanto sta nebbia, potrei trovarmi un boss oltre quella coltre. E questa è una citazione a Dark Souls per caso? Vabbè, comunque, a parte ciò, benvenuti in questo nuovo video della BlazeCraft Zero. Siamo nelle Between Lens, mi sono armato e ho iniziato a capire come funziona questa dimensione. Ora ragazzi, abbiamo un bel po' di cose, ma forse non tutto ciò che serve, perché voi non avete ancora. La maglietta e la felpa della BlazeCraft Zero con il logo in fiamme che trovate in descrizione nelle schede. Non è vero perché tanti di voi l'hanno già presa, quindi grazie mille per il supporto. Tra l'altro vi volevo anche avvisare che metterò una data finale alla campagna, perché non può durare per sempre. E quindi tra non molto verrà chiusa. Dunque ragazzi, ora che abbiamo un po' di cibo, un po' di palle che curano il decadimento, che sembra una cosa molto bella, ma ok, abbiamo legno, abbiamo le torce e tutto quanto, abbiamo anche questi attrezzi che si stanno deteriorando con l'utilizzo e la cosa a me non piace per niente. Quindi ho pensato che potrebbe essere ideale, visto che fuori c'è la nebbia e quindi non credo di poter andare molto in giro, potrebbe essere l'ideale scendere nel sottosuolo dove però pure c'è la nebbia. Quindi non è che prometta molto bene, ma ragazzi voglio andare a cercare un po' di minerali. Queste le teniamo così, almeno vediamo tutto. Vorrei cercarmi un po' di minerali, come vi dicevo, per potenziarmi. Siamo ad altezza 93. Come vi facevo notare l'altra volta, questo mondo ha il livello del mare, tra virgolette, molto più in alto dei mondi a cui siamo abituati, del mondo reale, eccetera, eccetera. Quindi le caverne, di conseguenza, potrebbero essere molto più profonde. Per esempio, qui che cosa abbiamo? Abbiamo ancora la Sir Morite, va bene. L'abbiamo già trovata questa, che comunque... Wow, bello profondo qui, ragazzi. Oh, cavoli, è così oscuro. È il caso di entrarci, secondo voi? C'è una discesa più calma? Oh, col cavolo c'è una discesa più calma. Utilizzo una vecchia tecnica che è sempre figa da vedere. Ok, non ci vado qui, non vedo neanche il fondo dove è finita la torcia. Da questa parte... Ok, lì vedo che si può scendere un po'. Ok, ragazzi, avete visto? L'ho buttata, non è mai arrivata con la torcia. Allora, metti un attimo nella mano secondaria. Ok, qua, tutto a posto. Non ci sono mob per ora, stranamente. Oh, minerale. Quello potrebbe essere interessante. Allora, scendiamo con un po' di calma, ma neanche troppa. Tanto siamo già arrivati. Io posso minarlo? Yes. Octain ore. Va bene. Prendiamo anche un altro po' di questa. Perché sicuramente poi la possiamo utilizzare come carburante per fornace simili. Direi anche di mangiare un pochettino, ragazzi. Di proseguire. Perché qui c'è qualcos'altro. Limestone. Ah, una pietra particolare. Ma queste sono le ossa dello zombie. Ci sono delle ossa, tipo dei fossili. Ok, va bene, prendiamoli. Perché male non fanno. Aspetta, questa torcia l'ho appena raccolta e quella che ho buttato prima da sopra. È arrivata qui. Potrebbe anche essere, sapete? Ok, ci sono dei rovi. E qui probabilmente si scende ancora. Quando ci fate che sta cosa mi fa del male? No. Ah, ok. È tipo Idera. Pensavo che fosse velenosa o robe del genere. Questa non promette bene. Questa che cos'è? È un'acqua strana. Ok, qui c'è altra octane, se non erro. Ce la prendiamo. Non credo sia un minerale raro, probabilmente vicino al ferro a sto punto. Vedendo quanto pervade l'area. E io voglio provare a capire che cos'è questa. Che cosa mi ha dato? Elisir del Deca... Mi ha fatto marcire di tre punti! Ok, qui dentro non conviene entrare. Io devo trovare però un'altra via per continuare l'esplorazione. Ragazzi, cosa molto strana. Siamo arrivati a trovare di colpo un layer di altra pietra. Rock bottom. Ho trovato anche un achievement. Che cos'è? Pitstone. È una pietra particolare? Vediamo ragazzi. Pitstone. Ciseled. Scabist lined. Ok, non so bene che cosa sia. E ho trovato un minerale nuovo, a quanto pare, che sembra anche bello abbondante. Che cos'è? Scabist. Ok, è appunto il minerale che vedevamo essere inserito nella pietra, no? Quindi che cosa fa questo scabist? Eccola qui. Ha un utilizzo, possibilmente, delle trapdoor. Queste pietre. Davvero strano tutto ciò. Permette di curare le armi. E finalmente sono sboccato da qualche parte. C'è anche un mob. Ci sono gli zombie lì sotto. Oh shit. Che cos'è sta roba? Che cos'è? È tipo un rampicante. Ok, aspetta un attimo. Esatto. È uno di quelli zombie schifosi. Forse non è proprio una buona idea buttarsi qui sotto. Quindi cerchiamo di avvicinarci tranquillamente. Io ho comunque bisogno di scendere perché voglio esplorare questa miniera. Cercare nuovi minerali. Ci deve essere qualcosa di prezioso. Dovrebbe esserci uno spawner o qualcosa di simile. Non mi posso non raggiungere. Bene. Li potrei anche picchiare da qui. Ok. Venite. Li facciamo fuori. Per sicurezza. Gli ho anche dato fuoco. A quanto pare. Ottimo. Vai. Ottimo. Bene. Muorici. Mi è appena uscito un altro. Quindi stanno spawnando da qui. Oh. Oh. Che cos'è? Che cos'è sto a fare? Che cos'è? Che cos'è? Che è? Oh. Che schifo. Mi ha buttato giù. Mi ha buttato giù. Lì c'è un altro. No. È uno zombie. È uno zombie. Ok. Calmi. Mio Dio. Mi ha anche droppato qualcosa. Tipo. Ciro. Ciro. Now. Wing. Tutto sembrerà più buono dopo questa. Cos'è? È tipo un cibo marcio. Ragazzi. Siamo quasi sul fondo. Lì c'è un altro strano liquido. Non vorrei caderci mai. E poi mai dentro. Cavoli. Cos'è? The Walking Dead di colpo? Ok. Questi li dobbiamo uccidere ragazzi. Mi sa eh. Questi li dobbiamo proprio uccidere. Comunque forse. E dico forse. Spawnano anche perché. Non c'è luce qui sotto. Ci potevo anche ben pensare eh. No ragazzi. Meglio lasciare intrappolate qui e noi ce ne andiamo. Direi. Direi di sì. Allora. Quest'altro liquido. Voglio capire se può essere dannoso oppure no. Sì. Semplice acqua. Molto bene. In questo caso. Niente di grave. È arrivato il momento di combattere. Oh shit. Non vi avvicinate. Ok. Uno è andato. Vai. Vai. Ok. Ok. Sono abbastanza gestibili. Sono più veloci dei normali zombie. Però sono gestibili. Quindi è un'ottima cosa questa. Allora. Detto ciò. Cosa? 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 Che è? Oh. Ok. Appena mi libero di questi cosi. Che sono tipo imprendibili. Ok. Li devo tipo affrontare frontalmente. Sono dei phantom. Però intelligenti. Ok. Infatti fuori. Vi stavo per dire. Che qua. C'è qualcosa. Qui c'è un minerale. Un minerale nuovo. Potrebbe essere interessante questo. Visto la profondità. Alla quale l'ho trovato. Vediamo un po'. È Valunite Shards. Ce ne sono quattro. Potrebbe essere. Equivalente al diamante. Mi chiedo io. Visto che ce n'è poco. E che sembra introvabile. Allora. Vediamo un po'. Una spada. Ragazzi. Non è che sembri. Tutto così forte. Certo. L'armatura non è male. Però non mi convince. C'è qualcosa che non mi torna. Bene. Ci mancava a negarsi. Ottima idea Eren. Ottima idea. Dammi una torcia va. Santo cielo. Raga. Mi sono ficcato qui sotto. Nella speranza di trovare qualche minerale. Sul fondale. Ma. C'è tipo una sorta di. Alternativa alla bedrock. E. Aspetta che qui c'è qualcosa invece. Qui c'è qualcosa. Allora. Mettimi la torcia. Ok. Ah ok. Il solito minerale che ho già trovato. Quello non promette molto bene. Raga. Lo sapete? Qualcosa lì non promette molto bene. Ma sto scappando. Io lo vorrei quasi affrontare. Oddio. No. 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 È la stessa cosa che mi aveva tirato giù nella palude. Eh. Ok. 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 Calmi. Calmi. Aria. Grazie. Aria. Vai che è quasi morto. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Tra. Tra. Va bene ragazzi. Sai che c'è? Ho finito anche il cibo. Mi sa che potrebbe essere il caso di tornare in superficie. Dunque ragazzi. Sto cuocendo un po' di cibo. E sto osservando anche un po' i minerali che ho a disposizione. Cavoli. Il surimi dà un sacco di... Di... Saturazioni indietro. Figo. Figo come cosa. Eh. Ho ucciso anche un po' di povere ranocchie. E mi sto cuocendo la loro carne. Eccola qui. Sto bruciando questi minerali. Inoltre ragazzi. Abbiamo questa sirmorite. Che eh. Non so se può esserci effettivamente utile. Perché ci serve per fare le armature. Più che altro. Una cosa che ci può essere utile. Invece è. Questa qui. La valonite. Che però per ora preferirei non sprecare. Altrimenti ci avrei fatto semplicemente dei piedini. Ciò che vorrei capire. Se non ho capito male. È questo minerale qui. Possibile che serva a ripristinare gli oggetti danneggiati. Vediamo. Slightly corrupted. Ma well coated. Cioè. Viene tipo ricoperto. In qualche modo. Non so che cosa voglia dire. Però ok. Visto che abbiamo altro minerale. Io sarei comunque ben propenso a farmi una seconda spada. Così. Ce la teniamo qui. Anche se questa ha preso a dar fuoco agli avversari. Non ho capito se. È una roba che non avevo notato. O subentra dopo. E ci facciamo già. Un secondo piccone. Così. Per sicurezza. Nel caso ce l'abbiamo. Dopodiché. Abbiamo questi slimey ball. E sicuramente. Il concetto di farsi un'armatura. Con. Come si scrive. Slimey bone. Un'armatura con le ossa. Non è affatto male come cosa. Il problema è che non protegge. Niente. Questa armatura. Dove è che sta. Protegge. Oddio. Protegge 5. Che non è male. Non è niente. Questa protegge 6 però. E ha protezione 4. Quindi. Direi che per ora. Ce la teniamo tranquillamente. Ciò che invece. Vorrei provare a craftarmi. È questo. Scudo. Di. Octin. O Octain. Che sembrerebbe essere in grado. Anche di dare fuoco. Ai nemici. Ed è tipo. Gigantesco. Mio dio. Proviamo ad utilizzarlo. E vedremo se. Può essere effettivamente utile o meno. Detto ciò ragazzi. Partiamo. Perché ho intenzione di esplorare un po' qua fuori. Oggi. La spaccatura del cielo è. Laggiù. Cosa. Molto strana. Io voglio esplorare però da questa parte. Direi. Sì. Andiamo da questa parte. E comunque una barchetta. Diciamo che potrebbe fare il suo. Dove. Oddio. Oddio. Ma quanto è bella la barchetta. Oddio. Ma. Ragazzi è fighissima. Come funziona però. Aspetta. Devo. Devo. Cosa devo fare esattamente. Per governarla. È incastrata. Non capisco. No vabbè che storia. Devo andare all'indietro. E praticamente. Pagogliare. Nella maniera giusta. Cioè. Ragazzi. Oddio. È difficilissimo. Ma è una figata pazzesca. Allora. Qui mi sono già incastrato. Quindi devo tipo. Girarmi. Ok. E spingere. Spingi. 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 Perfetto. Girati un po'. Girati un po'. Così. Un po'. Dai. Muoviti però. Aia. Vabbè dai. Devo prenderci la mano. Dove. Diamine. Sono arrivati. Che cosa è sta roba. Ok. Siamo già arrivati a. Qualcosa di interessante. Credo. E lì c'è uno di quegli strani volatili. Che mi volevano morto. Devo. Raccogliere. Per caso. Oh shit. Oh. Beh c'è. Che. Che cos'è quel robo. Aia. 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 Maledetto. Maledetto. Datti fuoco. Bene. Bene. Almeno lo scudo funziona. Ottimo. Ottimo. Ma è uscito un ragno da lì. Sai un ragno. Che cos'è. Una termite. Che cos'è. Ma perché. Perché muori. Muori. Schifo. Muori ci. E ci sono le sabbie mobile. E ci sono i nemici. Ma che posto è poi. Raga. Io non ho idea di dove stia andando. Ma mi affascina così tremendamente. È tipo un enorme palude. Lì c'è qualcosa. Aspetta. Qui c'è. È un tronco scavato. È un tronco vuoto. Va bene. Esteticamente figo. Ma. Praticamente inutile. Potremmo dire. Questa sembra qualcosa di interessante. È una pianta. Che cos'è che mi fa danno qui. Era una pianta carnivora. Era. L'ho distrutta. Ed è calata di nuovo la. Nebbia. Che cos'è. Che c'è laggiù. Sono così curioso. È dove ero prima. Che è? Uno spirito. Raga. Adesso vado a quel fuoco. E non. Non c'è più. Cos'è? Raga. Che cos'è sta roba? Wow. Shit. Oh. Fa male. Fa male. Mi avvelena. Ma posso combatterlo. Posso combatterlo. Che cos'è? Che cos'è? Oh. Oh. È morta. Qualsiasi cosa sia. È morta. Che cazzo è? Lost. Che devo combattere con le nuvole di fumo. No. Raga. No. L'avete visto? No. Raga. L'avete visto? Raga. Mi sto cagando. No. No. Avete visto? C'era una sagoma. Ok. Non è una di quelle cagate. Del tipo. Guarda. C'è irobrining. È una roba della between lens. Ma ha messo un'ansia che non avete idea. Che diamine era un mob? Un effetto visivo? Vi giuro mi sono spaventato un botto. Cos'è quella fiamma? Ma perché ci sono ste fiamme? Poi ti avvicini e non c'è niente. Che ansia. No raga. Comunque ci sono cose brutte nella nebbia. Ci sono cose davvero davvero brutte mi sa. Se non si fosse capito io mi sono perso. Intanto. Giusto per cominciare. Quindi magari mettiamoci. Visto che già vedo cose che sguazzano nell'acqua. Mettiamoci su questo rametto. E. Raga. C'era una barca. Raga c'era una barca lì. Dai. No. C'è. Guarda. Ok. No. Quello è un mob. Quello è un mob. Si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Oh cazzo. Oh cazzo. No 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 no. Quello sparava magia. No 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 no. Raga. Via. Via. Allontanati da lui. Allontanati. Raga. Perché era comparsa per un attimo una barca? Perché ho visto una sagoma prima? Cosa diamine c'è in questa nebbia? Cazzo. Sembra di stare a Venezia. Non trovate? Nel canale grande. Una pagogliata rilassante. Comunque prima. La sagoma ho detto. Non è che è tipo una mod. È una mod effettivamente. È probabilmente parte della Bitwilens. Però c'era una sagoma. Non so cosa sia. Non capisco se era un mob o un effetto visivo. Che diamine è? Cosa succede in questa fottuta nebbia? Mi sto perdendo? Sto andando dalla direzione giusta? Io vorrei... C'è tipo un'altra cosa brutta lì nell'acqua. Ma va bene. Tanto ormai stiamo facendo il callo. Le cose brutte. Sono incastrato. Un'altra volta. Tanto per cambiare. Io vorrei trovare qualcosa. Di rassicurante questa dimensione. Una struttura. Un segno di civiltà. Invece. Sto diventando pazzo. Totalmente pazzo. No. Un altro di questo bioma. Con le cose strane. Ok. Io non lo so ragazzi. Io non lo so. Ma finora. Questo tipo di bioma. È l'unica cosa che ha una struttura. Un accenno di qualcosa. Io non so. Se può risultarci utile. Quindi vorrei vedere. Questi vasi forse è meglio non romperli più. Ma vorrei capire. Che cosa sono queste strutture. Che cosa rappresentano. Abbiamo un problema. Perché il cielo si è spaccato in più punti ora. Ed è giallo. Cosa è stato quel verso. Cosa. Cosa. Grazie.